Era scappato dal suo paese lo scorso 22 novembre, subito dopo aver sparato e ferito in modo grave una donna. Un latitante albanese di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Campodarsego. L'uomo, arrivato in Italia, si era fermato in un albergo dell'Alta Padovana. Quando si è registrato nella struttura ricettiva è scattato l'alert delle forze dell'ordine. Sul suo conto, infatti, la magistratura albanese aveva emesso un mandato di cattura internazionale e in pochi minuti una pattuglia si è presentata all'albergo. Il ricercato non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma per tutti gli accertamenti prima di essere portato in carcere.